salve a tutti ragazzi qua il 9595 vi parla e oggi voglio fare il video di estrazione del contest che ho fatto partire il 17 agosto scorso e vi ringrazio per esservi iscritti al contest spero che vi sia piaciuta tanto come idea e volevo fare oggi adesso l'estrazione gli partecipanti siete in 8 grazie mille e andiamo subito al all'estrazione diciamo al con random.org ok e ricaio grande hai vinto un arcade di sims 3 snow girl ha vinto un arcade di sims 3 i get lost tough che è un expansion pack dranson 95 ha vinto un arcade di the sims 3 late night sempre un expansion pack turbo joe ha vinto un arcade di the sims 3 starter pack che include questa espansione qua più questa espansione qua più il gioco ovviamente swire gaming hai vinto un arcade di sims 3 date night dan villa yep ha vinto un arcade di medal of honor e pedo feaver ha vinto un arcade di minor rage e gaetano sarà per la prossima volta spero che non ti sia arrabbiato diciamo perché mi dispiace anche a me però mi dispiace ne avevo solo 7 allora comunque magari siccome magari ne farò un altro spero che verrai un'altra volta iscriverti una roba invece perché ha vinto per averle key se siete su steam aggiungetemi come contatto le sniper patrizio e così ve la mando più facilmente su steam invece chi non ha steam di voi me la mi invia un commento sotto questo video qua con su scritto che hai vinto la key e ti invio la key rispettiva diciamo che hai vinto spero che vi sia piaciuto come idea e ditemi i vostri commenti datemi diciamo degli aiuti se ho sbagliato a qualcosa che fa sempre bene diciamo e niente grazie di tutto e per un altro prossimo video ciao ciao